Benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale, in apertura parliamo della TAV, il ministro alle infrastrutture e dei trasporti Danilo Tonnelli ha smentito le notizie diffuse dalla stampa circa il fatto che siano stati completati gli studi su costi e benefici per la TAV Torino-Lione. Quando l'analisi sarà effettivamente portata a termine e sarà stata condivisa con gli interlocutori interessati, ha comunicato in una nota Tonnelli, sarà naturalmente pubblicata in ossequio il principio di trasparenza che abbiamo sempre osservato. Tonnelli è intervenuto dopo che alcune agenzie avevano pubblicato la notizia che il governo aveva bocciato la TAV perché non economicamente sostenibili. Adesso invece parliamo di smog, torna all'emergenza a Torino dove da domani saranno di nuovo fermi i diesel fino agli Euro 4, il divieto scatterà dalle 8 alle 19 per le Audi Bita e il trasporto a persone, invece dalle 8 e 30 alle 14 e ancora dalle 16 alle 19 per quelli che trasportano merci. Il 24 dicembre è prevista una nuova valutazione a quanto si apprende la città metropolitana sarebbe valutando anche in caso di dati negativi di sospendere il blocco emergenziale lasciando in vigore solo quello strutturale sempre attivo per le giornate festive del 25-26 dicembre. Adesso una notizia particolare, vermi e capelli nel cibo, inoltre piselli crudi e la denuncia fatta su Facebook dalla mamma di una bambina che frequenta la scuola primaria Duca d'Ostra di Torino che ha fatto scatenare un caso quasi virale. La direzione scolastica ha effettuato un superluogo presso la ditta che si occupa della somminizzazione dei cibi ai bambini ma sarebbero emersi solo problemi organizzativi e non igienico-sanitari. Pronta la replica della madre dell'alunna che ha continuato la sua protesta sui social network. Per l'8 gennaio la presa dell'istituto ha richiesto un nuovo controllo ispettivo convocando anche i genitori. L'occasione ci saranno anche l'assessore comunale all'istituzione Federica Patti e il presidente della circoscrizione 4 Claudio Cerrato. Con la cadra non si fermano neanche tale ma anzi rubano anche i regali e quanto è accaduto in un'abitazione di via Masini a Gerole dove due individui, approfittando detto che in quel momento non c'era nessuno a casa, si sono appropriati tutto quello che hanno trovato. Hanno smurato la cassaforte e prima di dare la fuga hanno anche preso i regali natalizi. Il padrone di casa, rientrato proprio mentre due stavano facendo perdere le tracce, ha denunciato di aver visto allontanarsi un audio di colore scuro. Saranno invece i canti di Natale il filo conduttore del concerto per la Corale Novese che si terrà domani sera all'eventone la chiesa di Nostra Signora Assunta della Pieve di Novi, un programma che renderà omaggio alla tradizione popolare italiana e da anglosassole, con testi e melodie che da sempre accompagnano questo periodo di avvento. Adesso abbiamo lo sport, non si fermano i campionati di calcio per le festività, si giocherà domani il giorno di Santo Stefano anche il 30 dicembre. La Serie A nel turno prenatalizio vedrà la Juve cercare di mantenere o di incrementare gli altri punti di distacco dal Napio ospitando la Roma, Torino sarà impegnato a Sassuolo, trasferta ad Empoli invece per la Samboria, a Marassi si giocherà Genova-Atalanta. Tre partite consecutive anche in Serie C per l'Alessandria Calcio, tra poco li vedremo nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana che analizzerà la condizione dei grigi alla vigia del trittico natalizio. Ci vediamo tra poco. Lo sport, in collaborazione con... E se poi quest'inverno fa freddo? Ma tanto freddo! E se poi scaldarci ci costa una fortuna! E se poi anche le stuia pellet mi tradiscono? Ehi, tranquilla! Inizia l'era Città! Il pellet e le stuie li produciamo noi direttamente! E apri bene le orecchie! Oggi tutte le stuie Cittrea sono scontate in o al 50%! Ma grazie Cittrea! Vi trovarci www.crea.it Tre partite per rinascere, a scorrarsi di dosso l'allergia al gol, per recuperare quei punti persi malamente in incontro che i grigi avevano già vinto e dominato, ma che poi si sono fatti scippare in finale per pura ingenuità. Le festività natalizie per l'Alessandria Calcio non saranno di riposo, anzi saranno un tour de force per la sua conquista di punti preziosi che diano ossigeno a una classifica che non ad oggi falsata sotto molti aspetti. La corsa verso un girono di torno si spera più fortunato e in domenica alle 14.30 al Moccagata, dove arriverà il Ponte d'Eva, attualmente sesto in classifica. Il Stradagostino lo affronterà con un molo 3-5-2 e probabilmente con Luca Santini in attacco, che appare in un'ottima forma. È una difesa formata da Delbino, Gatti e Agostinone. In dubbio l'Utito di Prestia. Il 26 dicembre gli orsi incontreranno in trasferta di sola, che avevano battuto in Coppa e Agli al Moccagata, ma il campionato è un altro discorso e sebbene i tuoi occupino una posizione critica, il match non dovrà essere preso su gamba. Ritorno davanti al pubblico amico domenica 30 dicembre, questa volta a mettere i bastoni fra i lotti e i grigi sarà la Juve 23. Poi il campionato si fermerà fra il 19 gennaio 2019, quando riprenderà con propria esenza Alessandria Calcio. Nel frattempo la società dovrebbe partecipare al calciomercato. Ci sono alcuni nomi al vaglio del presidente Lali Masi, per cercare di rinforzare la squadra. Lo sport, in colazione con... E se poi quest'imverno fa freddo? E se vuoi scaldarci ci costa una fortuna? Ehi, tranquilla, inizia l'era C3A. I pellet e le stufe li produciamo noi direttamente. Ma grazie C3A! Siamo arrivati al termine, adesso avremo le previsioni del tempo, vi anticipo che non dovrebbe peggiorare per il settimana la situazione meteorologica, forse da lunedì qualcosa peggiorerà in Liguria, ma lo vedremo rappresentato in grafica. Vi lascio al meteo e alle notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. Ad Acquiterme, un'eccenza per la cura e la salute della bocca. Acquidental, un centro odontoiatrico con professionisti di grande esperienza e tecnologia di ultima generazione. Impronta digitale intrauale, ortodonzia e invisible, TAC panoramica a bassa sessione. Acquidental, ad Acquiterme, via Cardinal Raimondi 16, 044-3582-87. Acquiti adesso e inizia a pagare da marzo a tasso zero. Siete tutti invitati domenica 23 dicembre alle ore 20.45 Castelletto d'Orba per lo spettacolo Finalmente è Natale. Protagonisti, i bambini delle scuole di Castelletto. Racconti, rece e canti per rivivere lo spirito natalizio. Le parrocchie di Castelletto d'Orba vi aspettano domenica 20 dicembre presso la chiesa di San Lorenzo. A Castelletto d'Orba finalmente è Natale.